carissimi amici appassionati di calcio d'oltre manica bentornati a una nuova puntata di streaming live stream di UK Calcio questa sera come sapete ormai da tanto tempo va in scena Press Room nella seconda la seconda puntata la secondo episodio per dire per così dire di questa trasmissione che il cui scopo principale è quello di farvi un po' darvi un po' un'idea di quello che è la stampa d'oltre manica anche perché chiaramente l'informazione è fondamentale quindi anche capire come si fa informazione sportiva nel Regno Unito è trovo che sia una cosa interessante e utile da farvi vedere quindi sono veramente contento di condividere con voi anche questo aspetto rispetto alla prima puntata di UK Calcio Press Room dove abbiamo avuto ospite Massi che ci raggiungerà Massimo Corsini ci raggiungerà presto tra qualche minuto io sarò coadiuvato con grande piacere dal caro Lorenzo a cui do il benvenuto vediamo se ci riusciamo eccoci eccoci qua benvenuti a tutti ci siamo ci siamo ciao Lorenzo tutto bene benissimo tutto bene tutto bene mi fa piacere mi fa piacere allora Lorenzo stasera toccheremo un po' ovviamente qua non c'è nulla di preparato in genere non c'è nulla di preparato qua ho selezionato qualche articolo ma non l'ho condiviso con nessuno quindi parliamo un po' così andiamo un po' a braccio in questa oretta di diretta ovviamente i cari a chi ci sta seguendo può interagire attraverso le chat del vostro social preferito quindi a noi ci fa piacere condividere con voi insomma le le impressioni allora caro Lorenzo ormai siamo diciamo che la stagione è ampiamente finita ne abbiamo parlato e oggi sono usciti anche i calendari di football league quindi già si sta delineando un po' la la prossima stagione e perché come sappiamo in inghilterra si si gioca ad anticipo invece ecco secondo te no perché in italia non si fa così ma la propria domanda che mi è venuta è quale motivo quale motivo quale motivo è impossibile da dirlo possiamo fare delle congetture su quale motivo tendenzialmente non ci piace sempre sono dei procrastinatori probabilmente fino all'incessibile poi c'è sempre da vedere ora serie a quest'anno è un po' di rossa però ci sono molti campionati in cui ci sono tanti punti asterischi perché non si sa squadre si iscrivano non si iscrivano però quelle lì la squadra lì ce l'avresti comunque ma anche noi abbiamo in italia questa brutta abitudine di considerare il l'appassionato di calcio come un cliente tossico dipendente praticamente più che un cliente sicché gliene facciamo di cotte di di crude in una vedi l'uscita dei calendari in inghilterra te sai già quando giocherà la tua squadra in quel giorno a quale ora esatto la gente ha da organizzarsi anche nella altro che come no è giustissimo è giustissimo poi ci si meraviglia se insomma parte la questione degli stati l'abbiamo affrontato tante volte la affrontare è un concatenarsi di situazioni molto differenti secondo me parlare di analo di differenze fra calcio inglese e calcio italiano non è neanche un modello raffrontabile in nessuna maniera neanche l'italia potrebbe per mio modesto parere aspirare o provare a imitare il calcio inglese secondo me potrebbe più vedere sul calcio tedesco forse tra l'altro insomma altro che tra l'altro io stavo leggendo proprio del anche a livello dei diritti tv e che c'è stata questa che la serie a insomma quest'anno puntava cifre veramente oltre il miliardo e insomma da quanto si apprende le offerte ricevute sono state addirittura meno della metà e qualcuno aveva detto mi avevo letto qualche tempo fa insomma credo il presidente della lega seriale se non sbaglio però potrei sbagliarmi che insomma la serie a era diversa arrivando ai livelli della premier league quando ci si beava di queste tre squadre in finale che poi tutti com'è andato a finire ma insomma io penso che è marido è marido hai da vendere qualcosa cerchi di venderla la maniera migliore possibile ma non è non è vendibile a quella maniera se ci vuoi arrivare devi lavorarci per anni come in inghilterra ci sei lavorato per anni su questa cosa non bruciare le tappe se bruci le tappe prima o poi qualcosa non ti torna sì assolutamente peraltro poi vi invito anche a iscrivervi al gruppo facebook ufficiale di UK calcio che potete vedere il link eh qui in sovrimpressione chi chi ci seguirà in replica in podcast basta cercare un calcio sulla barra di ricerca e trovate sia la pagina che il gruppo e insomma lì pure se ne se ne parla se ne è parlato di questo e io penso che addirittura cioè basti pensare che addirittura il Galles ha già preparato i suoi calendari e insomma noi lo seguiamo un po' ma non è che sia brilli per diciamo così tecnica o quant'altro ovviamente invece c'è anche una sorta di organizzazione anche perché se non erro in Galles si gioca al rugby eh tra l'altro tra l'altro sì assolutamente sì non è non è lo sport primario assolutamente poi questa questa anche la anche se questo è sulla un po' anche in parte sulla trasmissione però questa faccenda dell'eco pure è una cosa che insomma non si capisce io non capisco molto onestamente tra l'altro mi piace perché mi amore di quelle zone lì io ho un'idea personale se una squadra viene promossa e il campo è regolare per giocare il resto fa colore cioè andranno a giocare nel campo dove sono come in Inghilterra si va a giocare a Newton esatto non è l'Emirates esatto però lì hanno fatto un ammodernamento sul per quanto riguarda la zona tv con 10 milioni di sterline investite ovviamente per dare un servizio di broadcasting però il resto quelle eh esatto non è che buttano sullo stadio almeno per ora non lo butteranno giù e non lo rifaranno anche perché Luton non ha questa per ora insomma poi gli auguriamo ma gli auguriamo fino a un certo punto perché poi quello stadio eh è veramente eh non questo ci porta a discorsi che facciamo spesso cioè gli ultimi rimasti il marcord è la è quello a cui siamo affezionati magari noi vecchi nostalgici però il mondo cambia 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 anche te non ce la fai assolutamente sì eh prima di iniziare con la rassegna stampa due parole su quest'Inghilterra allora diciamo che la nazionale inglese secondo me eh parte comunque ha affrontato delle delle formazioni sono chiaramente inferiori però eh c'è da dire che quando tu anche con squadre più di livello inferiore ma ti imponi con questi risultati così altisonanti beh secondo me io credo che anche se Southgate è molto criticato però secondo me eh l'Inghilterra può puntare veramente alla vittoria perché ha una un insieme di giocatori giovani sono forti il gruppo c'è il gruppo cioè il gruppo c'è anche da anni e secondo me l'avversario è stato rispettato nel senso è stato giocato al massimo e vuol dire che malgrado stagioni lunghissime cosa che era un po' un problema della nazionale si riesce ancora la squadra ha fatto gruppo e vuole ancora giocare assieme poi si sa e il problema è sempre lo stesso e dal 66 arriviamo lì lì ci muoviamo lì vicino ci si è avuto tante situazioni ora ci vorrebbe Larry per per girare il dito nella fiaga povero ragazzo meglio di no meglio di no meglio di no lasciamo Larry su questo lo capiamo benissimo però comunque io credo che eh mai forse come in questa nella prossima edizione di una competizione europea l'Inghilterra possa avere delle eh grandi possibilità anche perché poi pure le altre nazionali a me non sembra di vedere chissà quale no non ce ne sono però sai in un torneo viene sempre fuori la sorpresa la Danimarca di turno per esempio e o per andare sui ricordi meno piacevoli a livello calcistico la Grecia è stato l'anticalcio però sì sì però succedono queste cose accadono e poi in fondo è il bello del calcio no altrimenti non lo seguiremo non lo seguiremo è giustissimo sono d'accordo tra l'altro il calcio diciamo i campionati si fermano ma non del tutto perché comunque ci sono i preliminari di Champions League in questo fine mese poi eh il anche a fine mese tra l'altro escono i calendari del del diciamo del calcio scozzese intanto vedo Massi che è apparso quindi adesso io direi di farlo subito eh apparire e diciamo coinvolgerlo nella diretta vediamo un po' uno due tre eccolo qua eccoci qua buonasera 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 scusate Riccardo ciao Lorenzo buonasera questo diciamo è come se fosse una piccola anglocalcio in ritorno stasera in mezzo qualcosa di di diciamo così quasi improvvisato devo dire non me di cosa si parlava di bello allora stavamo iniziando la rassegna stampa poi ci eravamo soffermati un attimo in questo momento sull'Inghilterra che comunque infatti ti volevo coinvolgere prima di iniziare questa rassegna stampa sull'Inghilterra che secondo me questa nei prossimi campionati europei potrà veramente puntare in modo serio alla vittoria perché è vero che è vero che ha eh affrontato formazioni molto umili diciamo così però quando tu le batti in modo così netto secondo me qualcosa sotto c'è stavolta oppure è il classico fuoco di paglia che dici Massi? Mi vieno a ridere perché insomma se si va a vedere le ultime dieci dodici qualificazioni che sia nei mondiali o alle europei l'Inghilterra ha sempre fatto bene cioè l'Inghilterra ha mai avuto problemi a qualificarsi dai tempi di McLaren insomma che era proprio una situazione abbastanza grottesca ecco quindi poi però quando si arriva che non va che gli ultimi europei continuano a restare un mistero come l'abbia potuti perdere astrali negative in quell'unica partita contro contro lì per il resto comunque sì è una buona squadra è una squadra che può dir la sua per gli anni a venire perché comunque ci sono giocatori di prospettiva non ci sono eh pachidermi esatto sì 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 ultra ultra trentenni se si esclude che in che comunque voglio dire ora qualche anno davanti eccetera poi oggi guarda ho visto l'under ventuno mi sembra che ci sia anche cose buone anche a livello a livello dei più giovani quindi insomma io credo che possano avere un buon futuro certo aiuterebbe vincere un trofeo perché poi secondo me si trascina dietro anche un po' questa lette che poi diventa quello che gli inglesi chiamano il voodoo no ovvero il non riuscire a trovare quel trofeo che ti darebbe anche serenità nella funzione e quindi magari poterne vincere anche di più però c'è da essere ottimisti ecco insomma che ha trovato squadre comunque deboli come ma c'è da nel nord però insomma c'è chi con la macedonia del nord c'ha è la realtà dei fatti sì 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 è così su questo su questo non c'è alcun dubbio su questo non c'è alcun dubbio si può essere più o meno felici della cosa sì 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 no assolutamente sì assolutamente sì assolutamente che veramente non ha messo un 5 a 0 che poi 5 a 4 mi ricordo e poi insomma con gli ut che passeggiavano giochichiavano si passavano la palla quindi sì un allenamento sembrava quasi un allenamento esatto esatto credo che ci sia di che essere ottimisti dai tutto sommato vediamo allora io direi si vai 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 visto che si parla un po di tutto il calcio british c'è questa scozia che a me fa piacere no pur non occupandomi di calcio scozzese in maniera così capillare come faccio con quello inglese però mi fa piacere che sia tornata ecco perlomeno che abbia superato quel buco nero nel quale era finita praticamente da dall'inizio del ventunesimo secolo giusto giusto sono molto contento giusta precisazione la scozia vola al primo posto con 12 punti 4 vittorie su 4 insomma veramente grande una grande prova invece parlando sempre prima di iniziare questa rassegna parlando sempre di nazionali mi viene in mente però ne parleremo più avanti dell'irlanda che non se la sta passando proprio benissimo l'irlanda e tra l'altro è anche un po abbastanza criticata io direi se siete d'accordo di cominciare la carrellata di notizie che io diciamo ho selezionato e non potevo non potevo non chiaramente non partire da innanzitutto ecco qua eccoci qua quindi partiamo subito e non potevo dicevo non partire dalla champions league quindi dal trionfo del del manchester city sul in finale in finale champions league sull'inter e o o mi ha incuriosito quindi volevo sapere poi la vostra opinione questo articolo apparso sul guardian un articolo del 12 del 12 giugno ecco ora ve lo ve lo faccio vedere sì 12 giugno eh Barney Roney eh fa diciamo un'analisi un po' eh più larga della vittoria del siti quello che può essere il significato della vittoria del siti cioè che questa vittoria è una vittoria politica nel calcio ma politica in che senso perché lui diciamo eh parla di come questa sia stata una una serata un po' particolare perché dal da un lato eh c'era eh diciamo così uno stadio perfetto no quindi perfetto sia per una finale ma anche a livello proprio mediale quindi eh le produzioni televisive che erano collegate da tutto il mondo chiaramente eh questo il poi il bello della della finale da di Champions League però all'interno di uno stadio eh di un dittatore così lo lo definisce e eh tra l'altro in un con un club che ha diciamo come protagonista un club che su cui diciamo c'è questa spada di damole della del financial fair play e quindi questa questo eh quest'inchiesta su cui eh che pende sulla testa del del Manchester City e però diciamo ci sono state una serie di lezioni interessanti da questa da questa finale cioè il fatto che eh il Manchester City comunque è la squadra più forte a livello europeo su questo penso che non ci siano molto non ci sia molto da dire ehm che comunque ci sono stati una serie comunque c'erano dei giocatori inglesi in campo e anche questo è una cosa molto importante quindi quattro giocatori inglesi in campo e un po' ci ricolleghiamo a quello che stavamo dicendo prima però se eh diciamo tutte queste cose belle ok ma ci si dimentica del fatto che eh o ci si è voluto dimenticare del fatto che comunque questo è la proprietà del Manchester City sappiamo di chi è quindi i diritti umani e tutte tutta la questione che sappiamo molto bene e che se ne è parlato molto anche durante il i mondiali io volevo sapere da voi secondo voi queste analisi hanno senso oppure no secondo voi fare un'analisi del genere oggi ha senso o no perché poi alla fine ricordiamo almeno secondo il mio modesto parere che uno dei motivi per cui la Premier League in questi anni è così forte è anche dato da i soldi che mettono questi signori perché non è solo Manchester City ma anche altri signori quindi secondo voi nel mondo moderno ha senso questo Massi ma eh senti io poi lascio parlare Lorenzo su però a questo riguardo oggi c'è stata la presa di posizione abbastanza netta da parte di Gary Neville non so se l'avete no quindi l'avete insomma Gary Neville un embargo sul trasferire in Arabia Saudita insomma a detta di Neville con questo gran movimento di giocatori Cristiano Ronaldo Benzema Angolo Cante ora Ruben Neville del Wolverhampton e insomma interessa Thomas Partey dell'Arsenal e Zizek del 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 fatto che eh al di là della proprietà del Newcastle e molti eh arabi abbiano parte eh eh e sì e non solo inglesi eh Neville dice che questa cosa potrebbe creare eh insomma un un problema a livello di integrità del sistema calcio in Europa e ha detto proprio papale papale guarda io sto leggendo ora dalla dalla BBC perché oggi ho avuto una giornata pesante e non sono riuscita ad approfondire la Premier League dovrebbe imporre un embargo immediato sui trasferimenti in Arabia Saudita per garantire che l'integrità del gioco del calcio non venga danneggiata eh bisogna verificare la congruità delle operazioni che fanno eh io su questo mi trovo anche abbastanza d'accordo con quello che dice Gary Neville io per esempio queste multiproprietà europee con eh gruppi come il Citigroup che compra lo il Saragozza non mi ricordo che si conosce in Spagna in Italia e il sette 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 che c'ha il Genoa l'erta Berlino e altre dodici squadre in giro per l'Europa non piace devo essere sincero non mi piace molto perché poi si rischia davvero di di ritro padroni che decidono quest'anno vince Tizio il prossimo anno faccio vincere il Caio l'anno dopo faccio vincere il Sempronio questo è vero però prima di Lorenzo la tua tua opinione qual è? Ma è vero anche Vettora è vero che insomma loro cercano anche un riciclaggio d'immagine consci anche del fatto che finora hanno fatto fortuna col petrolio il petrolio non è eterno e devono trovare un piano B per il futuro onestamente e si sono buttati sul calcio anche in promozione turismo che io francamente questo giudizio mio personale di turismo lì sembra di fare turismo a Milton Keynes francamente c'è a vedere alberghi e cose del genere cioè non è il mio turismo però vedo che funziona in qualche modo e anche questo va considerato il discorso di Neville io l'ho visto su una pagina facebook che diceva anche di stare attenti ai trasferimenti soprattutto dei giocatori del Censi che fra l'altro il Censi si trova degli esuberi e allora anche lì in Arabia Saudita è più probabile andare soprattutto sul discorso del fondo PIF perché potrebbero andare da una parte per poi rientrare a Newcastle da un'altra parte certo e con tutti i giri su cui bisogna farci un po' di regolamentazione di tutto non funziona se hai visto non funziona nel mondo proprio almeno questo è il mio giudizio personale il discorso è che questi soldi onestamente alla Premier e al calcio inglese servano perché c'è poco da dire servano e bisognerebbe trovare un bilanciamento fra le due cose cioè monitorare vedere e poi a me non piacciono neanche il discorso che fondi prendino squadre oppure che ci siano situazioni tipo il volberento gestito praticamente da un gruppo di procuratori definitiva che è un parcheggio diventa tutto un discorso un po' particolare va legiferato va perché rientra sempre sul discorso degli stati a noi ci piace un altro calcio ma questo calcio che sta dove sta andando va in qualche modo gestito è anche abbia fatto una cosa molto interessante con il sito stesso ora non so come sta andando all'indagine però tre anni l'indagine per vedere un attimo cosa stanno facendo senza per un impianto accusatorio deve raccogliere prove certo certo il problema però pure secondo me il problema pure secondo me è dato dal fatto che tornare indietro è un po complicato è perché ormai comunque la premier league no non torno indietro come fai adesso ormai è così e poi sarà io credo temo che sarà sempre peggio perché poi bisognerà anche mantenere questo livello quindi però poi la bolla scoppia è questo questo è il rischio esatto infatti stavo dicendo proprio questo che fino a un certo punto puoi mantenere ma poi un certo poi arriverà un momento in cui non non si reggerà più vedremo insomma andiamo andiamo avanti con l'analisi e ci trasferiamo in championship perché c'è una notizia recente tra l'altro questa ecco vediamo agevoliamo agevoliamo la regia e il leister ha scelto il nuovo allenatore maresca quindi maresca è il nuovo allenatore dell'eister fresco fresco maresca chiaramente come come sappiamo eh essendo stato diciamo il secondo di guardiola fresco fresco di trebole di champions league va al anche lui diciamo esce dall'accademia di guardiola e va a allenare una squadra va all'eister e le sue diciamo prime dichiarazioni che potrebbero essere un po particolari però lui ha detto la cosa più importante la cosa più importante è vincere e beh giustamente è questo insomma è una è una considerazione da sottolineare e forse lo dice perché pure lui immagino sia abbastanza emozionato tant'è che lui lui dice che all'inizio il diciamo l'obiettivo principale è giocare nel miglior modo possibile e poi da lì si dovrà eh costruire giorno dopo giorno e e appunto la cosa più importante è vincere le partite che cosa ne pensate di maresca all'eister è una scommessa delle possibilità che dite Masti vai no no non è una scommessa perché in inghilterra le scommesse sugli allenatori non si fanno e si dà le opportunità anche ai più giovani di lavorare io adoro Enzo Maresca solo per il fatto che da ragazzino scappò da Cali quando ancora i giocatori della primavera potevano scappare un po' come andare a Glasgow no quindi già il fatto che sia andata a West Bromwich me lo fa di me lo fa essere un idolo poi grazie alla sua vendita alla Juventus è nato un ciclo straordinario dei baggies quindi insomma io adoro Enzo Maresca l'ho incontrato due 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 anni fa insomma l'ultimo anno del Verona in B mi sembra che mai eh lì spiegai che ero tifose West Bromwich fece vedere tatuaggi rimase contentissimo ci si faceva la foto insieme quindi insomma lo adoro io credo che possa essere un ottimo allenatore in Italia ha avuto sfortuna l'anno scorso a Parma perché eh gli era stata data una squadra che è molto sopravvalutata no tutti dicevano che sarebbe andato a un Serie A eh in carrozza poi così non è stato eh l'hanno esonerato al suo posto chiamarono Iachini che eh doveva ingranare la quinta un po' come ha fatto Ranieri col Cagliari quest'anno invece Ranieri e Iachini alla resa dei conti probabilmente faceva anche peggio di Maresca quindi eh secondo me può essere un buon allenatore il maestro ce l'ha avuto buono l'estero è anche una piazza dove può crescere con relativa tranquillità perché non è una piazza che no che dice noi si è vinto l'ora si deve primeggiare sempre un po' il discorso che si fa da noi no noi siamo una piazza importante non si deve stare in Serie B bisogna andare in Serie A quindi io credo che abbia tutto il tempo la possibilità di crescere e credo anche che abbia fatto bene a ripartire dal campionato inglese un po' perché lo conosce bene un po' perché hanno molta molta più pazienza con i giovani bene giusto sono d'accordo tra l'altro non è che hai per caso mentre sentiamo Lorenzo cosa ne pensa non è che è al volo questa foto magari la volevo far vedere ma a parte la volevo vedere io se ce l'hai al volo aspetta aspetta vedi se vedi se riesci a trovarla intanto volevo sentire di Lorenzo a me secondo me ha fatto benissimo accogliere quest'occasione perché è l'occasione giusta nella piazza giusta anche nel campionato giusto per lui onestamente mi sembra conosce conosce bene ormai l'ambiente ora non l'ambiente di Leicester ma conosce bene l'ambiente inglese sa bene come muoversi a me non dispiace come allenatore tra l'altro eh anche presentarsi in maniera pragmatica da dire sì vogliamo giocare bene però l'importante è vincere perché vincere è tutto praticamente eh ha messo subito le cose in chiaro molto 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 una scelta azzeccata poi che c'entra andrà nessuno nessuno connasce di volare no assolutamente no però comunque hai ragione perché Leicester è una è una piazza veramente calda come come tutte però e poi hanno tanta voglia di ritornare subito in in Premier League su questo 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 è evidente perché poi io diciamo sono contento ne abbiamo parlato giovedì scorso con Davide Chilardi sono contento che l'Everton si sia salvato perché comunque una Premier League senza Everton non è una Premier League però mi ha fatto male vedere le trocede dell'Eister perché comunque e su questo siamo tutti d'accordo penso ci ha dato delle emozioni qualche anno fa veramente uniche che io ricorderò per sempre perché è stato veramente un una una stagione proprio da sogno coronata nel migliore dei modi da un professionista poi quale Claudio Rianeri che anche quest'anno poi ha eh confermato di come come meritasse quello che ha ottenuto eh quindi sono sono veramente sono veramente contento allora eh diciamo diciamo subito che possiamo mentre Massi sta cercando la sì sto cercando mentre Massi sta cercando ti do una buona notizia io la foto non ce l'ho più però ho trovato la miniatura della pagina del canale youtube di anglo calcio in cui bisogna vedere cosa si può vedere da qui in cui si parlava del tuo incontro con Maresca che giorno era che giorno era giorno ora dovrei sentirlo e diventa un po' un problema è sei anni fa ecco qua sei anni fa allora aspetta allora aspetta io cerco io cerco di farla vedere vediamo un po' se ci riusciamo a volo ho mandato che il link sia eh si l'ha visto sì l'ho visto l'ho visto adesso appena si parlava di Maresca mi sono subito ricordato ovviamente è molto è molto piccola la foto perché giustamente è una miniatura è una miniatura eccola l'hai trovata allora vai allora se me la mandi su whatsapp così facciamo la facciamo vedere sicuramente si vedrà meglio perché questa ecco qua ero più umano vediamo un po' ah sì poi è la stessa ovviamente chiaramente la stessa però eh però è questo è un formato più grande vediamo se ci riesco apriamola un po' ero visibilmente mamma mia davvero adesso si vedono questi occhi e questa faccia vediamo adesso la faccio vedere la faccio vedere allora eccola qui vediamo un po' eccola qua vediamo cerchiamo di mettere la spiagno intero il più possibile ecco qua vedete Maresca sorridente Massi un po' emozionato però però con il tuo lavoro ne hai visti tanti è un modo di sì però non sono tanti quelli con cui mi sono fatto una foto perché non è che ci abbia tutta stasmania no poi sono lì a lavorare però ci sono quei due o tre personaggi che quando ho detto anche ai miei colleghi bimbi ho bisogno di fare una foto con lui perché ci tengo è questo sono sono bei ricordi poi comunque si vede anche da questa foto che Maresca è veramente una persona alla mano cioè si vede proprio insomma sì 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 ragazzi si vede si vede proprio quindi auguriamo che calcio augura il massimo a Maresca magari chissà lo riusciremo pure ad invitare ma non si può sapere cioè proviamo se c'è qualche contatto magari se c'è qualche contatto no ma volendo si può si può trovare allora allora ci avremo ci avremo lo scoop di Maresca a tu che calcio poi vedremo allora torniamo torniamo in diretta perché volevo un po' continuare perché adesso sostanzialmente restiamo restiamo in championship e ci colleghiamo un attimo anche al discorso un po' che avevamo fatto all'inizio perché perché voglio farvi vedere la notizia la notizia di recente ora non so esattamente la data però è recente più o meno recente insomma del Birmingham che ha trovato un nuovo o meglio il Birmingham ci sarà un nuovo investimento sul Birmingham questo nuovo investimento sarà fatto da un americano che acquisterà il 45 per cento ecco ve lo faccio ve lo sottolineo qui il 45 per cento del Birmingham e quindi perserà nelle casse del club una cifra importante eh questo diciamo questa acquisizione è stata già approvata dalla in dall'IFL ovviamente come sappiamo e sapete se non lo sapete ve lo dico cioè le regole per eh diciamo acquisire delle percentuali di club sono molto stringenti in Inghilterra non si scherza cioè si deve passare attraverso una certa determinate diciamo così caratteristiche deve avere l'investitore altrimenti eh non si ha l'autorizzazione all'acquisto e quindi eh diciamo che questo investimento su questo investimento il Birmingham punta molto vedremo cosa farà anche nella sessione di mercato io eh ricordo che il Birmingham diciamo che questa stagione non è che abbia proprio diciamo così brillato eh brillato in championship si è salvato insomma è stata una salvezza non comodissima eh però si è salvato diciamo così quindi con questo investimento il Birmingham punta in alto io quello che ricordo del Birmingham di qualche anno fa ma è molto tempo che non lo visito è il sito web che faceva veramente schifo qualche anno fa ma veramente schifo faceva ora non so se l'hanno non ho avuto il piacere di di andarlo a vedere di nuovo quindi non so se l'hanno ammodernato un po' ma voi col Birmingham avete qualche storia particolare Lorenzo e Massi da da condividere oppure oppure no? No è un rivale del West Browich perché ovviamente essendo di di eh di di Birmingham è è una squadra rivale ma ma neanche neanche troppo io guarda se ti può far piacere ho trovato la collezione del Birmingham 1978 della Paniglia. Mamma mia purtroppo non si vede benissimo però bellissimo ma questo è una eh perché è è un librone dove ci sono un po' tutte questo è è il 1978 ma scusa ma questa è una cosa è una pubblicazione inglese? Sì sì l'ho comprato e insomma sono ah ok ok sì perché l'ho vista di figurine stampate 78 85 sì io l'ho vista della della serie A infatti per questo mi chiede sarà la stessa serie eh sì sì ho capito bellissimo eh Massi c'ha io a me manca il trofeo in miniatura dell'FA Cup mi manca anche questo e adesso mi mi chiedevo la mia la mia diciamo biblioteca. Ma lo sai che quando sono andato a Wembley al negozio c'era ne avrei preso un paio poi da distribuire ma non c'era eh forse perché l'avevo promesso la settimana dopo per la finale d'FA Cup no? Lì era la finale ah giusto non c'era eh però però vi avevo pensato eh ma tu sei troppo c'è devo dire devo dire devo dire se fa l'altro il trofeo dell'FA Cup mi ricordo nel catalogo del Subutio c'era c'è e io ce l'ho quello però ce l'ho ora su un armadio e il catalogo del Subutio del Subutio sarebbe cioè cos'è il catalogo? Allora quando ero ragazzino il Subutio era il calcio da tavolo praticamente era un gioco e io giravo non si girava per i negozi di giocattoli che ti dà dove ti distribuivano ti davano gratuitamente il catalogo in cui vedevi tutte le squadre per numero quelle poteri trovare a giro con le maglie in più c'erano i gadget tipo i riflettori lo steccato vari tipi di porte vari tipi pallone e i trofei che c'era l'FA Cup come trofeo bellissimo fantastico per l'altro una curiosità vista non ho curiosità su Birmingham la mia prima squadra la mia prima squadra di Subutio comprato è stato il Bristol Rovers ma c'è un motivo specifico? Mi piaceva la maglia ah ti piaceva la maglia? Sì 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 Massimo hai mandato qualcosa? Sì sì ah vedi cosa mi hai mandato? Bellissimo questo è quello di cui parlava Lorenzo adesso bellissimo questo è bellissimo mi dispiace che chi ci ascolterà nel podcast non si possono vedere le immagini purtroppo perciò dovete seguirci dal vivo ma va bene anche in podcast guardate Massi cosa ci manda direttamente dal mondo del Subuteo eccolo qua eh questa è proprio una chicca ragazzi eh tanta roba ma questa è tanta roba proprio ma veramente ma questa è tua Massi? Eh io sì 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 ce l'ho eh non è questa che ti ho mandato in foto ma ce l'ho così e quando giocavo a Subuteo che facevo simulavo la finale del fake up poi attaccavo due nastrini di lana colorati con i colori della squadra che vinceva e la consegnavo alla squadra vincitrice insomma pensa se ci fosse stato se ci fosse stato Davidone stasera penso eh beh sì comunque ora guarda mi c'è capitato gli occhi non non è un oggetto così raro sto guardando insomma su ebay si trova intorno ai 18 20 euro quindi ah ecco può essere anche un investimento fattibile per un cultore ecco sì 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 assolutamente sono assolutamente d'accordo credo sia vendutissimo come oggetto sì sì certamente sì fatto benissimo tra l'altro si vede che è fatto benissimo allora ragazzi proseguiamo perché voglio diciamo così trasferirmi trasferirmi diciamo scendere ancora diciamo di categorie in parte eh perché chiaramente il campionato i campionati sono finiti eccetera eccetera però infatti c'è già il calendario di quello noi l'abbiamo parlato proprio prima che tu entrassi in trasmissione proprio di questa cosa che invece in Italia ce la si prende molto comoda ma non c'è solo quello non ci sono solo i calendari ma ci sono soprattutto le coppe quindi eh che cosa che cosa fa il non league paper parla che back on road to Wembley che non mi sembra neanche il caso di tradurre quindi eh qui eh si viene un po' fatto un una veloce eh un veloce sommario un riassunto di tutte quelle che sono le date della FA Cup duemilaventite duemilaventiquattro quindi si parte il 5 agosto col turno extra preliminare prima o poi riuscirò ad andare a vedere una partita di turno extra preliminare ce la farò ma non solo l'FA Cup anche perché giustamente siamo su non league paper e quindi si parla anche soprattutto di FA Trophy che eh correggetemi se sbaglio eh coinvolge le squadre dal quinto all'ottavo livello e l'FA Vase che invece è il nono e il decimo livello quindi ancora più giù ancora più giù qui l'FA Vase inizia il 26 agosto invece l'FA Trophy eh inizia un po' più tardi a partire dal 9 settembre e la cosa bella eh quale l'FA Trophy? Tutte e due che ora sono sponsorizzate di Isuzu? Sì 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 Isuzu che non so con industriali ah sì ok va bene benissimo quindi hanno trovato anche un altro sponsor io eh quello che dico che ogni volta cioè ogni volta che vedo eh mi capita di leggere dell'FA Trophy o dell'FA Vase io resto sempre a bocca aperta perché quanto sarebbe bello una cosa del genere in Italia ma tanto diciamo sempre qualcuno ci ascolterà prima o poi con chi Massi tu che hai sempre i contatti magari cerchiamo di smuovere non lo so no non credo non credo che ci arriveremo mai ormai sono eh sono mestamente rassegnato ecco purtroppo purtroppo è così no non credo che che in questo paese arriveremo mai ad avere una cultura sportiva tale da da avere un FA Cup dove dove possono vincere tutti ecco purtroppo è così e restando sempre nell'ambito del non league paper c'è questo eh questo è il numero del 18 giugno come vedete quindi è freschissimo è la settimana scorsa c'è questo diciamo questa considerazione che eh vado vado al sodo per insomma anche sentire soprattutto il vostro opinione di Christian Levy che parla secondo secondo lui è giunta l'ora di mettere un tetto sui proprietari cioè ci deve essere un limite oltre il quale una squadra non può eh non può essere acquistata perché questo perché oggi avere avere un un club costa troppo e si fa eh scusate si fa l'esempio qui del Derby County per cui il il in in soli cinque anni Mel Morris ha perso il cinquanta per cento della sua ricchezza cioè in tutto quello che aveva investito l'ha persa in soli cinque anni quindi questo poi è ovviamente quale considerazioni poi vanno è una diciamo è abbastanza interessante eh questo questo articolo poi magari lo possiamo anche lo magari lo riprenderò proprio sul blog eh chiedendo sempre l'autorizzazione al non link paper penso me la daranno eh ci parleremo e però eh questo magari potrebbe essere una cosa una cosa interessante il salary cap c'è in nel nel NBA se non sbaglio di una cavolata non lo so c'è nell'NBA c'è anche nell'NFL quindi si parla anche nell'NFL non lo sapevo qui invece si va oltre proprio per tutelare certe situazioni che poi soprattutto eh le squadre le squadre più piccole voi pensate che sia una cosa una 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 cosa impossibile da da realizzare oppure una cosa su cui pensarci Lorenzo volevo iniziare da te allora difficile da realizzare molto difficile da realizzare perché poi compensi possono essere come si suol dire mascherati in svariati modi onestamente è lo stesso problema che ha spesso l'NBA che magari malgrado vengono rigirati in sponsorizzazioni sono discorsi un po' complicati da fare giusto giusto serve serve perché serve per dare un una regolarità però è anche vero che chi sbaglia paga punto cioè prima o poi a forza di pagare si smetterà anche di sbagliare su questo non c'è dubbio Massi tu che dici su questa faccia io dico che è difficile perché per due motivi principali il primo è che le leghe americane NBA NFL sono molto compatte basti di pensare allo standard sull'abbigliamento no ognuno non non è libero di sottoscrivere un accordo con con un'azienda eh che gli offre di più ma è la Lega che fa un accordo e e la il marchio tot fornisce il materiale a tutte le le franchigie questo è un esempio no di di gestione comune del del di un intro c'è il discorso che sono leghe chiuse quindi non c'è retrocessione e questo rende certamente il salary cap più eh fattibile per anche chi è potenzialmente più ricco e soprattutto c'è un sistema di ingresso che è legato dai draft quindi dalla l'uscita dalle università che fa sì che ci sia un flusso di giocatori e va in base ai inversamente proporzionale ai risultati sportivi quindi mh boh da noi è un sistema completamente diverso è come quando no qui in Italia si dice il sistema inglese è senza sapere di cosa di cosa si parla io salary cap per com'è strutturato lo sport in Europa e a me piace devo dire la verità perché pensare a squadre che che possono finire con due vittorie e tre non retrocedere mai eh non 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 mi piacerebbe ecco però lo vedo una cosa di difficile attuazione qui da noi ecco da noi in Europa assolutamente assolutamente sì poi qui si fa proprio un discorso ancora più complesso c'è proprio un tetto all'acquisto di un club addirittura c'è una cosa ancora più difficile che va quasi proprio a limitare la la diciamo così la 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 libertà d'impresa cioè per certi aspetti insomma proprio a livelli esagerati e mentre saluto con tanto affetto Lorenzo Larry ah grande lo salutiamo con affetto buonasera Larry andiamo proseguiamo eh andiamo diciamo nella parte finale della nostra trasmissione qui ovviamente sia il meglio che è il peggio tra virgolette quindi anche un qualcosa ogni tanto ci vuole lasciami un minutino per l'accadde oggi eh in fondo ah certo non sapevo che ce l'avete no ma è proprio una curiosità più che allora allora facciamo questo intermezzo di di questa di questo no lo facciamo alla fine dai finiamo alla fine perfetto ok allora andiamo avanti con questo con questa notizia un po' più soft eh che ovviamente è una notizia soft chi ce la può regalare se non il sun ovviamente forza quindi eh diciamo che c'è stato un po' una 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 forte critica a sky sports perché ha deciso di cacciare di mandare via eh JD Dyer che io ignoro chi sia eh chiedo chiedo venia per questo non so di cosa si occupa se voi lo conoscete anzi Dyer dovrebbe essere l'ex calciatore ma no JD non si chiama JD Dyer l'ex calciatore no non è lui ah non credo che sia lui comunque eh comunque siccome sky sports sta facendo un eh netto taglio ai suoi commentatori questa quindi è pure una cosa un po' particolare perché l'ho scoperto questa notizia proprio leggendo questa cosa leggendo questo articolo questo poi eh un'altra cosa che sarebbe da approfondire ha deciso di eh in questi tagli ha deciso di tagliare proprio lui e perché si sono diciamo così rivolti i fan i tifosi perché questo Dyer è diventato eh famoso perché ha descritto in modo io ho visto il video però non è che è stata poi una cosa così io non lo posso far vedere il video eh per questioni di tecnici di copyright lui ha eh descritto il gol dell'Aston Villa contro il Nottingham Forest di Watkins in un modo così molto diciamo preciso che sembrava quasi eh vede chi chi diciamo ascoltava Dyer parlare sembrava proprio di vivere questa eh questa azione eh quindi è stata una decisione che eh come dire anche young right come potete vedere qui insomma ha la particolarmente ci sono rimasti tutti male perché eh hanno detto avete cacciato sostanzialmente avete mandato via uno che è uno che poteva essere veramente un grande commentatore uno avete mandato via un talento ora non lo so però il Sun ci dà anche queste notizie andiamo penso penso che non lo conoscete voi che si deve dire eh c'è poco da dire qua su questo vedremo 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 come che il Sun dà un po' queste notizie particolari ecco per questa mi piaceva questa notizia spostiamoci velocemente in Irlanda avevamo avevamo già eh sì avevamo già parlato dell'Irlanda qualche tempo fa questa è una notizia che ho riportato anche su piecalcio.com e Brady eh nel commentare eh una delle gare dell'Irlanda in generale nel commentare l'Irlanda su RTE che è la la tv irlandese che ha trasmette insomma è come se fosse sky per certi aspetti e mh o non so se addirittura la tv pubblica questo questo non ne sono certo non so se è privato o pubblica ma questo è un altro discorso ha diciamo detto che il gruppo di giocatori ha dichiarato il gruppo di giocatori eh attualmente a disposizione dell'Irlanda è il peggiore di sempre cioè quindi non ha dato sostanzialmente speranze all'Irlanda e anche se eh diciamo così il calcio irlandese eh sembra diciamo essere avere un un appeal più mh alto presso almeno gli irlandesi secondo quanto riportato anche dalla prossima dal prossimo articolo che volevo farvi vedere cioè il fatto che c'è stato un incremento nel almeno nel duemilaventete quindi la la stagione ancora in corso quindi rispetto all'anno scorso c'è stato un venti per cento in più di tifosi quindi di persone che vanno a seguire le partite dal vivo e quindi addirittura una media circa di sessantacinque mila spettatori in più che chiaramente a noi sembrano numeri eh bassi però in un in un paese dove il calcio certamente non è lo sport principale comunque fanno riflettere magari ci sono possibilità di sviluppo e chiaramente in questo grafico fornito da Extra Time che è un un sito insomma che si occupa proprio di calcio eh irlandese tra le altre cose si può vedere come eh la squadra ma anche qui c'erano pochi dubbi la squadra che ha più seguito sia lo Shamrock Rovers eh che ha diciamo una percentuale di spettatori più alta su tutta la League of Iran nel duemilaventete ma già anche l'anno scorso e quest'anno come dicevamo anche lo Shamrock Rovers ha aumentato i suoi spettatori vi vedo silenziosi eh perché forse non me ne può fregare di meno del calcio irlandese no 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 ascoltavo ascoltavo con attenzione riflettevo sul fatto ed è invecchiato tanto ah Brady eh sì sì è invecchiato tantissimo lo sai ci avevo pensato ci avevo cioè non lo riconoscevo devo dire la verità avevo fatto caso anche io è veramente invecchiato molto ecco lo vedete in questo primo piano ci perdonerà a Brady però il tempo passa per tutti eh gli anni passano è peggio si dice no eh sì 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 assolutamente sì però comunque insomma eh sono state parole molto forti eh l'Irlanda sta diciamo non sta dando molto spettacolo eh sta passando quel periodo che ha passato la per una decina di anni sì esatto esatto però ma piccole che che possono avere degli alti e dei bassi no ci sta c'è poi una base molto piccola calcistica però in effetti cioè prima di tutto ha parlato un qualcuno che per il calcio irlandese è quasi tutto mi hai detto che hai ragione sì 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 eh 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 i risultati sono quelli eh c'è poco c'è poco c'è poco da dire a commentare in compenso sto vedendo un messaggio di Lorenzo Rossi adesso lo facciamo lo facciamo vedere adesso gli daremo modo di farlo vedere perché io volevo chiudere la rassegna stampa così poi andiamo verso la chiusura facciamo vedere il commento di Larry quindi andiamo alla giusta soddisfazione a Larry ma ne avevamo parlato dell'Inghilterra ma non non è ricollegante non è ricollegante e poi io assolutamente sì per forza e volevo chiudere proprio per fare diciamo un per completare questo questo giro di eh dei quotidiani ovviamente in Galles non siamo andati ma ne abbiamo parlato del dei calendari che sono stati eh già resi noti ma volevo chiudere con la Scozia eh mi sembrava giusto chiudere la Scozia perché c'era un c'è una notizia che anche questo ho ripreso eh su che calcio punto com ora ve la faccio vedere della di una proposta che però non è passata circa la creazione della cosiddetta conference league cioè un una quinta serie eh che doveva diciamo contenere anche le squadre B della alcune squadre B della Premiership e doveva essere posta tra la League Two e la Highland e eh league questo doveva essere cioè diciamo il fine ultimo di questa conference league doveva essere quello eh di favorire il non solo di collegamento tra la non league e la Scottish Professional Football League perché ovviamente il meccanismo di di promozione ne sale una sola ci sono i playoff play out insomma è una cosa molto complicata per per entrare in Scottish Professional Football League ci vuole un bel po' insomma non è non è semplice questa serie eh in più avrebbe aiutato queste squadre a eh farsi strada però è stata bocciata questa idea innanzitutto per una questione eh di eh denaro perché le squadre della Premiership non avevano la non hanno la possibilità eh di permettersi eh di mantenere le squadre B e poi un altro motivo per cui è torno sul sull'articolo un altro motivo per cui è stata eh diciamo così abbandonata l'idea era per l'impatto che aveva sulla piramide perché eh si sarebbero dovute retrocedere una serie eh notevole di squadre quindi circa duecento squadre sarebbero andate giù intanto abbiamo perso Lorenzo ecco è ritornato eh circa duecento squadre sarebbero state retrocesse quindi per per compensare la creazione di questa nuova lega quindi questo avrebbe avuto un impatto eh notevole sul su queste realtà già piccole che si sarebbero trovate quindi di fronte a situazioni un po' particolari secondo voi ragazzi la creazione questa era un'idea eh sostanzialmente folle oppure come riporta il il press and journal questo è il il diciamo il quotidiano da cui ho preso questa notizia è una eh idea un po' pazza oppure effettivamente poteva avere qualche senso quella della creazione di una quinta serie per cercare di dare una mano alle squadre di non league ecco diciamo così di andare tra i professionisti che dite chi vuole ma porsi non so quanta mano gli avrebbe potuto dare eh effettivamente ora io non ho numeri sotto perché non seguo moltissimo e il calcio scozzese se non per vedere i risultati di qualche squadra però è anche vero che insomma la base del calcio scozzese non è così forte poi se si deve creare una conference magari a 12 squadre perché questo è il format di un po' tutte le squadre di queste 12 squadre magari 5 o 6 devono essere squadre B no quindi insomma certo 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 è una cosa un po' particolare ma è un po' così è intenso sì 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 cioè mancando le squadre B perché a un certo punto il problema ne mancava le squadre B che ti manca anche forse l'appeal e la possibilità di ti manca l'azionista in maggioranza sostanzialmente questo è vero tra l'altro un'altra soluzione che si paventava da alcuni presidenti sempre import import riportate dal press and journal era che magari una soluzione o un primo cambiamento potrebbe essere quella di spostare questi campionati quindi l'island league l'island league quindi tutta la non league scozzese in estate e almeno provare a fare un torneo in estate un po' come sostanzialmente per esempio in Irlanda che si gioca in estate questo potrebbe essere un banco di prova per eventuali modifiche per poter dare più visibilità a questa realtà e per evitare il grande numero di partite che vengono poi sospese per il rigido inverno che colpisce la Scozia e soprattutto questi tornei che non sono preparatissimi venirebbe sentire il nostro amico Guido a riguardo che essendo appassionato di non league scozzese ci potrebbe dare delle ma Guido sta in Scozia quindi non sapevo che stesse in Scozia Guido io speriamo sempre che lui legge poi i messaggi sul gruppo io mi auguro che un giorno una sera un giovedì ci darà ci farà l'onore di di partecipare noi lo storcheriamo e prima o poi ce la faremo ma poi ce la faremo ho bisogno della sua memoria storica ti ricordi quella squadra di non league che si trattò con anglo calcio che dovette recuperare una cosa tipo otto nove partite il diversage il diversage cioè due anni fa ha vinto il campionato l'anno scorso è nuovamente retrocessa è nuovamente retrocessa il diversage che è vicino il divers è un esempio ora un esempio inglese però anche queste squadre che potrebbero recuperare rincorrere campionati non sono attrezzate neanche numericamente sicché alla fine si va a fare tutto il torneo perché qualcuno arriva si presenta con due giocatori infortunati due ragazzini eh ma poi questo questo succede anche nell'anno l'inglese insomma tanti lavorano quindi anche il martedì sera diventa difficile eh andare a farsi una trasferta magari dover perdere una mezza giornata di lavoro una volta lo puoi fare due lo fai già alla terza puoi avere qualche problema magari di andare però in contrasto con le famiglie dei giocatori andando allora ragazzi allora una verso la chiusura quindi facciamo vedere subito il commento di Larry diamogli questa soddisfazione perché mi sembra mi sembra anche una cosa giusta che lui sta benissimo mi fa molto piacere con nove chili di pasta e ricordate lo spot post e lo ricordiamo quindi Larry siamo ne abbiamo parlato appunto dell'inghilterra all'inizio quindi abbiamo giustamente celebrata io adesso a questo punto eh prima di far vedere l'altro commento anche di Larry di cui parleremo eh prima di salutarci io direi massi oppure vogliamo far vedere il commento di Larry che parla dell'Hamilton l'Hamilton Accademia come sta messo i Scozio sono tifosi Lewis Hamilton quindi per assunanza lo seguo benissimo l'Hamilton purtroppo diciamo non è che se la passi molto bene perché ha fatto diciamo è retrocesso in Ligue 1 ha perso il playoff contro l'Aerdione l'Aerdione anzi ai calci di rigore quindi diciamo che non è non sei che se la passi molto bene comunque a parte questo eh massi io direi a questo punto ora la scena è tutta tua perché degna conclusione con una chicca di che non era previsto perché pensavo che non ce l'avessi invece guarda perché sapete abbiamo sospeso anche l'accadde oggi perché insomma c'è poco in questo periodo fino ad agosto quando poi ricominciano campionati è difficile però c'è un accadde oggi che poi un accadde domani è anche piuttosto recente 23 giugno 2016 23 giugno 2016 è un evento non strettamente calcistico ma che ha avuto un impatto abbastanza importante anche a livello calcistico ovvero il 23 giugno 2016 sette anni fa l'Inghilterra anzi il Regno Unito andrò al voto per la Brexit ah andò al voto per la Brexit e insomma si ironizza un po' sul fatto che il 2016 è stato l'anno degli underdog perché perché un attimo prima del voto per la Brexit ci fu la Premier League che venne vinta dall'Est il top dell'underdog eh non da poco sì la vigilia davano una vittoria del Remain e invece poi con una percentuale bassa ma 51 e 9 minima via una forbice minima ma è sempre sufficiente vinse eh l'uscita quindi vinse la Brexit e a chiudere il 2016 una cosa non strettamente inglese ma anche lì eh fu un underdog insomma a novembre ci furono le elezioni presidenziali negli Stati Uniti anche lì i sondaggi davano favorita a Hillary Clinton e alla fine invece vinse Donald Trump quindi insomma 2016 l'anno dell'underdog e nell'anno dell'underdog è andata bene a Leicester è andata un po' meno bene britannici e Titi di quel voto sulla Brexit che vinse eh contro ogni pronostico sul Remain questo sette anni fa precisi precisi domani ma Massi sei sempre proprio cioè veramente non ho parole numero uno Massi è uno dei tanti numeri uno che fanno parte di UK Calcio se no giustamente lei mi dice ma sono tutti numeri uno è bene sì qua ci sono tutti solo numeri uno qua solo numeri primi sono numeri primi esattamente tutti numeri primi tra l'altro per questa cosa della Brexit un po' una rottura di scatole perché se uno deve acquistare qualcosa da lì cioè è un disastro io infatti vi dico la verità volevo infatti l'avevo parlato pure sul gruppo volevo comprare la maglia del Biuri ma cioè qua poi con queste spese ulteriori non si capisce quindi ho detto probabilmente probabilmente UK Calcio sosterrà il Biuri perché si può sostenere il Biuri c'è una membership che cosa sessanta sterline insomma non è una cosa eccessiva sarebbe una bella cosa vediamo è vero ora c'è da pagare la dogana faiciò mia figlia Massi ti sei bloccato? figlia piccola che sei invaguita del ho detto che a settembre quando andrà a Londra se la comprerà perché ordinarla si si spende di più cosa cosa deve comprare tua figlia perché sei andato la maglia del Chelsea sei invaguita del Chelsea mia figlia ah simpatizza del Chelsea si si sei invaguita del Chelsea e come mai con un papà del Westbrovich mi diva Chelsea ma che è credo credo che ci abbia messo lo zampino Mason Mount il suo essere un bel ragazzo ecco alla fine a 16 anni si guarda ci sta guarda molto anche questo a casa Torzini ci sarà liquidato tutto il giorno ecco esatto esatto diciamo che a quell'età ci siamo passati tutti eravamo un po' tutti eravamo un po' tutti presi da questi aspetti certo quando sono andato a Wembley mi sono fermato prima a Stamford Bridge a comprargli una maglia da passeggio quella nuova non è ancora uscita quella da gioco era tutta contenta insomma sono una figlia tifosa del Chelsea è vero l'importante portate che sia del Wolverhampton o della Stoneville tra l'altro prima di chiudere una notizia che non sono riuscito a riportare ho letto un po' così eh di sfuggita a proposito di maglie che l'Arsenal insomma ha fatto un po' una figuraccia eh sì 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 ha proprio sbagliato non so cosa perché ripeto oggi ho avuto una giornata difficile non ho avuto modo di leggere ma ha dovuto ritirare sì ha ritirato le maglie perché c'era una parte grafica che doveva con delle righe adesso non so bene neanche io però c'erano queste righe che dovevano eh riprendere le diciamo gli invincibili quindi la l'Arsenal di Wenger e doveva riprendere tutte le partite che in cui non hanno perso quindi la serie consecutiva di partite non perse però se ne sono se ne sono perse di strada qualcuna quindi le righe erano sbagliate il numero di righe era sbagliato se ne è accorto potrebbero fare potrebbe diventare come il Gronchi Rosa e che una maglia rara sì perché infatti se la nome chi la compra perché Adidas dal sito l'hanno subito tolta chiaramente però qualcuno ne hanno venduta l'Adidas ha offerto dei rimborsi ma io me la terrei io non l'ho compito tu che faresti Lorenzo? io mi faccio vendere tranquillamente assolutamente sì questo tra qualche anno avrà qualche valore visto che siamo in tempi ma anche senza il valore è proprio l'idea io ce l'ho sì sì è vero non è che sempre si compra le cose pensando di rivenderlo del valore no no è vero è vero questo è vero questo è verissimo io dell'Arsenal ho comprato la maglia l'anno scorso la terza maglia no la seconda quella nera è la seconda maglia molto bella devo dire veramente bellissima infatti la tengo perché mi piace molto adesso la maglia non so se avete visto qualche maglia poi chiudiamo avete visto qualche maglia già mi ha colpito qualcosa no neanche io ho visto una di particolare che mi ha colpito sinceramente ancora quindi però l'anno scorso quella del Crystal Palace stupenda la seconda la seconda del Crystal Palace bianca con quel con quel disegno al centro veramente bella infatti questa pure la dovrò assolutamente comprare bene ragazzi è esaurito l'aspetto diciamo del merchandising io vi saluto vi ringrazio come sempre della vostra presenza spero di grazie a te rivedervi il rivedere Massi e Lorenzo sicuramente Lorenzo Massi anche e tutti gli altri il 6 luglio facciamo questa appuntamento mensile di Angolo Calcio e UK Calcio così almeno ci salutiamo e ci diamo gli auguri delle vacanze dell'estate eccetera poi non avendo nulla di attualità da parlare se può parlare anche liberamente ma sicuramente sì certamente vediamo se ci riuscissima ad avere Guido Massi magari se mi dai una mano così insistiamo insistiamo un po' insistiamo dai dobbiamo taggare insistere continuamente va bene va bene ragazzi io vi saluto vi ringrazio tanto e ci vediamo presto ciao Lorenzo io anche io vi saluto vi do appuntamento a giovedì prossimo dove ci sarà UK Calcio Show alle ore 21 e parleremo di tutti i campionati d'oltremanica quindi faremo un po' il punto della situazione di quello che è accaduto in Scozia abbiamo già accennato grazie al commento di Lorenzo stasera e parleremo del Galles Irlanda si sta giocando Irlanda del Nord insomma abbiamo anche lì parecchie cose da dire quindi ci aggiorniamo su questo e poi sarà disponibile a fine mese la programmazione di luglio che sarà leggermente ridotta proprio per dar spazio all'estate estate che però nel calcio l'oltremanica non è che dura moltissimo perché vi ricordo segnatevelo già così almeno non vi non vi dimenticate che dal 5 agosto si riparte quindi si riparte alla grande prima di salutarci io vi ricordo che se vi piacciono i contenuti il calcio una birra fa sempre piacere se vi piace scrivere di calcio l'oltremanica contattate e scrivete all'email che vedete insomma l'impressione c'è redazione chioccio ucchiecalcio.com perché ucchiecalcio sta costituendo la redazione quindi se vi piace scrivere vi piace il calcio l'oltremanica avete un posto dove sfogare la vostra passione e vi invito ovviamente come sempre anche a iscrivervi al gruppo facebook che si sta popolando sempre di più e diciamo è un luogo dove si può parlare di tutto il calcio l'oltremanica e ci si può confrontare sempre nel rispetto massimo degli altri benissimo io vi saluto ancora e vi ringrazio per essere stati qui con me a presto